Il mondo è pazzo, il mondo, il mondo è pazzo, il mondo, il mondo è pazzo, il mondo è pazzo, già si sa, il mondo è pazzo, il mondo è pazzo ma in città, c'è Onda Pazza. Buonasera, buonasera e buon ritrovati a questa nuova puntata di Onda Pazza. Sono Gabriele Tommasi, con me in studio Marco Corsetti. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E ospite, diciamo ospite ma anche collega di Radio Sancara, nonché direttore, Alessandro Bartolini. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te per essere qua. Ci ha già aiutato moltissimo per quanto riguarda appunto la storia, gli epiloghi che hanno caratterizzato la cattura di Matteo Messina Denaro. Ed oggi, visto che comunque volevamo affrontare da ormai un po' di settimane l'argomento, ci aiuterà a trattare una figura che per quanto marginale all'interno di Cosa Nostra è stata sicuramente di molta importanza per quanto riguarda i processi, per quanto riguarda le indagini. Stiamo parlando di Armando Palmeri. Armando Palmeri, che dice Alessandro, ci fai un'introduzione generale di chi è stato, di che figura è stata appunto per quanto riguarda i processi e perché era così marginale per quanto riguarda Cosa Nostra. No, non era una figura marginale. Era una figura come ce ne sono state altre nella storia di Cosa Nostra. Penso a Mutolo, che era stato l'ex autista di Irina. Sono quelle figure che... o Spatuzza. Spatuzza non era un affiliato alla Cosca, al mandamento di Brancaccio dei fratelli Graviano, ma era un uomo strategico, importantissimo. Ricordiamo che è grazie a lui se oggi si è arrivati più vicini alla verità sulla strage di Via D'Amelio perché smentì il falso pentito Scarantino. Questa è un'altra storia. Palmeri è una figura marginale all'interno di Cosa Nostra perché non è ufficialmente affiliato, quindi non è punciuto uomo d'onore, ma è un personaggio che ha vissuto da vicino accanto a un boss di primo piano di Alcamo, il capomandamento di Alcamo, Vincenzo Milazzo. Ne era il suo autista, era il factotum e come spesso accade era l'uomo che stando lì più vicino carpiva più segreti. Palmeri è un ex collaboratore di giustizia, ha collaborato con la giustizia, poi è uscito dal programma di protezione. Le sue dichiarazioni, diciamo la verità, sono state rilasciate fra gli anni, si parla di un decennio fa, però sono state riprese, ripescate, soprattutto in due processi ultimamente. Mi riferisco al processo che sta conducendo e ha portato alla sentenza di appello con la condanna all'ergasso di Rocco Santo Filippone e di Giuseppe Graviano, rispettivamente uomo dei Piromalli, Rocco Santo Filippone, quindi punta di diamante dell'Andrangheta e Giuseppe Graviano, è venuto di presentarlo, insomma, fedelissimo di Totorina, mente delle stragi in continente del 1993 e quant'altro. Questi due processi sono arrivati, questo processo è arrivato a conclusione con la sentenza di appello di pochi giorni fa, processo istruito e portato avanti grazie alle indagini del procuratore aggiunto di Radio Calabra, Giuseppe Lombardo, che durante il processo ha sentito anche Palmeri. E poi a Caltanissetta, dove invece la procura di Caltanissetta porta avanti le indagini sui mandanti esterni alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Palmieri è morto pochi giorni fa, il 17 marzo, ieri è arrivato, anche se non è stata depositata, sono stati... L'autopsia. L'autopsia, che parla di morte naturali, di infarto, bisogna dire che Palmeri soffriva di ipertensione, quindi era un soggetto molto fragile per quanto riguarda problemi cardiaci. La sua morte però arriva pochi giorni prima di un confronto che Palmeri, proprio a Caltanissetta, avrebbe dovuto avere con l'ex senatore Lauria, ex senatore dal 96, se non vado a rato, di Forza Italia, poi è passato all'Udeur di Mastella. Qual era il centro di questo confronto e perché le dichiarazioni e i verbali di Palmeri sono importanti e nevralgici per la continuazione delle indagini per quanto riguarda sia il processo andrangheta stragista che il procurtatore Lombardo ha già annunciato che questo processo si è arrivato la sentenza, un appello, ci sarà la Cassazione, ma insomma la struttura portante del processo è stata confermata, però è molto probabile che da questo processo, da questa sentenza, si sviluppino nuove indagini. E a Caltanissetta è importante perché Milazzo, quindi il boss di Palmeri, boss di Alcamo, quindi un mandamento molto importante della provincia di Trapani, sappiamo la provincia di Trapani quanta è strategica per Cosa Nostra e quello che c'è là, cioè è la provincia dove, diciamo così, si tessono i rapporti fra mafia, imprenditoria, politica e apparati dello Stato e massoneria. Vincenzo Milazzo, sintetizzo perché poi abbiamo dei contributi, alla vigilia delle stragi, quindi facciamo un salto indietro nel 92, quindi stragi di Capaci e stragi di Via D'Amelio e quello che verrà con le stragi in continente del 93 viene consultato, come avviene nelle riunioni principali della cupola di Cosa Nostra che poi devono dare l'avvallo alla strategia dell'organizzazione su appunto l'opportunità di sferare un attacco allo Stato. Ma di racconta Palmeri intraprende una linea, diciamo, del Ni, lui la riassume molto efficacemente così, quindi, non dicendo né di sì né di no, mantenendosi un po' in quel guado che lì sarà fatale. E aggiunge Palmeri, alla vigilia Milazzo, ricordiamo, muore a cavallo fra della strage di Capaci e Via D'Amelio pochi giorni prima della strage di Via D'Amelio, cinque giorni dopo l'omicidio di Milazzo viene uccisa anche la sua compagna incinta, fra l'altro Bonomo. Vengono uccisi, ma racconta Palmeri che prima dell'uccisione Milazzo ebbe tre incontri, almeno tre incontri, con, dice lui, due esponenti degli apparati di sicurezza, quindi tradotto servizi segreti. E quindi il sospetto è che Milazzo sia stato ucciso proprio perché, contrario alla linea stragista intrapresa da Totò Rina, Leoluca Bagarella, Matteo Messia di Nerao, fratelli Graviano, perché era appunto contrario a questa linea e perché era un testimone chiave del fatto che, stando a racconto di Palmeri, questa linea non era solo di Cosa Nostra, ma questi, se sono stati veri, se ci sono stati questi tre incontri, due pari di tre incontri, con esponenti degli apparati di sicurezza, vuol dire che questa strategia effettuata, messa in campo da Cosa Nostra, ma pensata sicuramente anche da altri. Questo è il punto e l'importanza delle parole di Palmeri. Diciamo che, allora, sicuramente saranno molto interessanti i contributi e direi, visto che abbiamo iniziato a parlare di queste questioni, di iniziare con il primo. Jacopo alla regia, per favore. Grazie. Grazie. Vincenzo Milazzo, per evitare che lo uccidesse brusca? Sì, che magari lo avrebbe fatto in modo più, diciamo, più violento, entro virgolette. Quindi comunque doveva morire Vincenzo Milazzo? Sì. E perché doveva morire per forza? Aveva fatto qualcosa? Aveva saputo qualcosa? Sai, guardi, subito dopo l'uccisione del Milazzo, come è tristamente noto, venne uccisa anche la sua ragazza, Antonella Bonomo. Ma che io appresi allora, sia dal Gioe che dal Camantonino, una moltitudine di corbellerie sul movente. Aveva rubato dei soldi, si era incastato dei soldi, aveva dato noia a una donna di un uomo d'onore, aveva parlato di Rina, aveva parlato male di Bernardo Provenzano, cioè una moltitudine di, come dire, di falsità. E invece il motivo vero per cui Milazzo doveva morire, qual era? Questo io non posso affermarlo con certezza, quello, noi, sia io e Milazzo, sapevamo il motivo per cui eravamo, dovevamo essere fatti fuori, perché sostanzialmente Milazzo si era rifiutato, e mi ero rifiutato anch'io, di affiancare una strategia terroristica atta alla destabilizzazione dello Stato. Abbastanza chiara soprattutto la parte finale della testimonianza di Palmeri, cioè è chiaro poi che, diciamo, questa è anche un po' una vecchia storia, che poi, diciamo, già prima comunque delle stragi capaci di Via D'Amerio era venuta comunque fuori la questione, cioè, della mafia stragista, perché poi, insomma, sostanzialmente da quando il Corleonesi, ora questo, insomma, diciamo, dimmi anche te se sbaglio, comunque Alessandro, però già c'è la questione, chiaramente, di mettersi, cioè di prendere le distanze da una certa strategia che c'era stata da parte di chi aveva preso in mano Cosa Nostra, al tempo, e aveva scelto sostanzialmente di consolidare una strategia di potere tramite metodi che definisce Palmeri terroristici, in realtà, cioè, sono metodi, chiaramente, soprattutto, cioè, della tensione, sopra quella che un tempo si chiamava la strategia della tensione, poi, insomma, c'è sempre, insomma, ognuno c'è sempre anche un po' sull'analisi storica di questi passaggi, molte cose, però, insomma, chiaramente, questo trova il suo culmine nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e lì, chiaramente, c'è c'è una presa di distanza, cioè, lì comincia, cioè, come dire, maggiormente, si creano quelle situazioni in cui c'è una presa di distanza da parte di alcuni affiliati o comunque persone che pur non essendo ufficialmente affiliate sono vicine alle varie cosche di cosa nostra in quella paese. Ma sì, nella testimonianza resa da Palmieri, questo straccio che abbiamo sentito preso da Radio Radicale si riferisce alla testimonianza di Palmieri al processo ondrangheta-stragista e il quadro, ovviamente, le dichiarazioni di Palmieri devono essere, devono avere riscontri e tutto, ovviamente, però è chiaro che intanto bisogna partire dai fatti certi. Per far fuori Milazzo si muove il gota di Cosa Nostra perché all'amicidio di Milazzo partecipano Luca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Brusca e Gioe. Tutti gli uomini di Rina. Tutti gli uomini e i colonnelli di Rina si muovono per uccidere un capo mafia di Alcamo, ripetiamo, Alcamo è un punto strategico per Cosa Nostra, è la forza militare anche di Cosa Nostra, la provincia di Trapani. Poi, cosa dice la testimonianza di Palmieri? Ma questo lo notiamo anche nella strage di Capaci, nella strage di Via D'Amelio e soprattutto nelle strage incontinente del 1993, che la strategia di Cosa Nostra ha messo in concesso che siano stati solo uomini di Cosa Nostra a portarla avanti, cioè a piazzare le bombe, è stata suggerita da qualcuno esterno all'organizzazione. Per cosa? Per, diciamo così, queste sono le ipotesi investigative più quotate, e non lo dico certo io che non ho l'autorità di persone che indagano su questi fatti da decenni, per traghettare, per riequilibrare quegli assetti di potere che si erano rotti con la caduta del muro di Berlino e quindi con la caduta della Prima Repubblica. Questo serviva nelle strage. A traghettare, ma è successo, non partecipò Cosa Nostra, parteciparono i gruppi neofascisti, è successo nell'80 a Bologna. Cioè, quando, è come se fosse un corpo unico, un idra, un corpo unico ma con tante teste, tanti interessi di potere, tanti centri di potere, mafia, massoneria, pezzi, apparati dello Stato che non voglio chiamare deviati perché, vedete, i servizi segreti, poi ci sono le fazioni, ci sono, immaginate in una stagione di resa dei conti come poteva essere la caduta della Prima Repubblica, rispondono sempre a un potere politico e questo non ci piove. Poi ci sarà il soggetto infedele, il corrotto e tutto, ma quando si muovono in determinati contesti si muovono perché fanno riferimento a un potere politico. Non è che di loro iniziativa prendono e vanno a parlare col, si è ammesso che sia vero, col capomandamento di Alcamo e le dicono, stando sempre al racconto di Palmeri, bisogna iniziare questa strategia addirittura Palmeri dice Milazzo rimase sconvolto dicendo ma questa è la vera mafia sostanzialmente fa capire che avevano proposto di piazzare bombe, avvelenare apokedotti, mettere le siringhe sulle spiagge di Rimini, dice queste sono la vera mafia, noi siamo i burattini di questo sistema grande di potere. E quindi la testimonianza di Palmeri è importante per questo, ma Palmeri non racconta solo di Milazzo, Palmeri racconta anche delle frasi e di dialoghi fatti col suo amico Antonino Joè, altra figura su cui fra poco spero che ci sformeremo, perché Antonino Joè di mandamento di Altofonte, quindi un mandamento anche quello molto importante, cugino di Francesco di Carlo, uomo che è stato appurato nella sua storia criminale, ha avuto rapporti con apparati dello Stato, Antonio Joè nel 67 in un'informativa dei carabinieri di Altofonte viene descritto come un giovane figlio di mafioso ex paracadutista e persona adatta ad operazioni riservate tradotto una fonte o comunque una figura che può assolvere determinati incarichi ok Antonino Joè è l'uomo che accanto è accanto a Brusca quando salta in area la tua strada di Capaci in cui muoiono Falcone Morvillo e gli agenti di scorta Antonino Joè muore suicidato questa è la versione ufficiale in carcere un giorno particolare la notte dopo o a cavallo delle stragi di via palestro a Milano nel 93 quindi si parla del 27 luglio del 93 stragi di via palestro compiuta in contemporanea con gli attentati a Roma sempre con autobombe un po' strana come con i cinesi esatto con autobombe davanti alla chiese di San Giovanni del Velabro e San Giorgio San Giovanni San Giovanni e San Giuseppe c'è un'indagine aperta per anni la morte di Joè è stata raccontata come un suicidio un suicidio molto strano si impicca alle alla cella alle sbarre della cella toccando i ginocchi per terra insomma no e molti dicono l'ipotesi investigativa dice che Joè stesse per parlare Joè lascia una sorta di testamento scritto in cui vengono lanciati messaggi che capisce chi deve capire e Joè racconta molto amico di Milazzo racconta a Palmeri beh sì Brusca è sempre convinto che il pulsante del telecomando che ha fatto detonare la carica esplosiva sotto l'autostrada di Capaci l'ha spremuto lui ma non è così cioè dall'altra parte c'era evidentemente qualcun altro che aveva in mano il vero telecomando e ha premuto al momento esatto realizzando proprio a livello materiale io pensavo a livello metaforico del tipo ha messo in atto un attentato che per a livello militare è perfetto beh decisamente lo stesso Brusca dice ma noi eravamo quattro contadini quando ho visto che è saltata per arena l'autostrada neanche no mi sono detto come ho fatto no cioè Antonino Gioè è un'altra di quelle figure che sapeva tutti in retroscena delle stragi e infatti non c'è più Milazzo era uno che aveva capito cosa stava veramente dietro e chi muoveva le fila e non c'è più ma lo dice Palmeri no ma è stato neanche cosa nostra sapeva spiegare come mai viene fatto fuori un uomo comunque di primo piano come Milazzo cioè ha importunato la donna dell'uomo d'onore ha rubato soldi cioè non si poteva dire la verità perché non si poteva dire che cosa nostra venne portata a braccetto per quella stagione era stata indirizzata a compiere diciamo questa strategia sostanzialmente ed è singolare che diciamo ancora ci sono tutta una serie di misteri rispetto a quelle alle due principali stragi che abbiamo citato e a tutta una serie di legami fra cosa nostra e organi dello Stato e le persone sono cioè le persone che potevano diciamo effettivamente dare un'idea più chiara rispetto a questa cosa scompaiono cioè sostanzialmente cioè muoiono in maniera qualcuno occidentale qualcuno si dice cioè che per altre cioè per altre ragioni sia stato ammazzato per altre ragioni questo insomma è un po' difficile diciamo pensare che effettivamente regga il ragionamento poi chiaramente ci sono indagini in corso o alcune insomma si fa la chiarezza però insomma più che questioni di Stato sono questioni di potere di chi cerca di perpetuarlo ad ogni modo già che abbiamo ancora di più eviscerato la questione possiamo farvi sentire il secondo contributo sempre dal processo Andrangheta Stragista in cui appunto Palmeri parla di questi incontri avvenuti tra Milazzo e esponenti dei servizi segreti e in particolare se venite in contatto diciamo con questo tipo di riferimento alla strategia terroristica nel corso di ben precisi incontri a cui il Milazzo partecipa dunque nei primi la prima il primo semestre del del 92 il Milazzo ebbe tre incontri nel primo semestre sì con degli uomini appartamenti ai servizi segreti sì e questi avevano come dire proposto un augurazzo di prodigarsi per questi attentati da svolgersi in Sicilia e fuori dalla Sicilia il primo incontro venne in Contrada Conza il secondo sempre incontrato a Conza ma nella villa di un famoso imprenditore pavermitano tale Maglio Vesco successivamente suicidatosi e metto in tre due galette in circostanze alquanto discutibili il terzo incontro che fu tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amedio avvenne in una villa alle pendici del monte Bonifato che sovrasta Alcamo la villa dello senatore Ludovico Corrao tre incontri quindi tre incontri che si svolgono in un periodo temporale ristretto mi pare di aver capito in sei mesi ecco in sei mesi e allora soffermiamoci in maniera specifica su ogni incontro come si arriva al primo incontro qual è il ruolo che lei svolge e che cosa fa Vincenzo Milazzo e soprattutto chi incontra in quell'occasione lui mi aveva avvertito che c'erano degli appartenenti dei servizi segreti che volevano parlare con lui cioè le dice proprio così appartenenti ai servizi segreti sì 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 e poi successivamente mi chiese anche di accompagnarlo ma io ho detto vabbè è meglio che mi tenga in maniera defilata controllo da fuori la situazione a che serve che io sia presente non serve a nulla quindi Milazzo voleva che lei assistesse proprio al discorso sì sì ovviamente non le fa nessun nome non le fa nessun nome di questi appartenenti ai servizi no le dice da dove venivano queste persone no no quindi si arriva a questo incontro come? come individuate il luogo dove andare? lui sapeva che era tramite chi l'abbia saputo lui sapeva che dovevano arrivare in quella villa di proprietà dell'imprenditore De Simone De Simone quindi il primo incontro è presso la casa di questo De Simone sì che si trova esattamente dove? incontrato a Conza a Castellammare del Golfo quindi comune di Castellammare sì in quell'occasione anche in quell'occasione io mi temi in modo defilato in modo da poter controllare la situazione e la distanza sì chi vide entrare chi vide entrare in quella casa due soggetti che non conoscevo appunto appartenenti ai servizi di sicurezza servizi segreti e accompagnati da un altro chirurgo primario di di chirurgia dello nostro colomio di Alcano tale Baldassare Lauria Baldassare Lauria sì cioè accompagnava in che senso cioè entrò insieme ai due presunti appartenenti ai servizi di sicurezza lui procedeva con una piccola una macchina sportiva di marca Volvo scura che mi ricordi li precedeva mentre gli uomini appunto appartenenti ai servizi deliati li seguivano con una macchina di piccola non utilitaria che macchina era? non mi ricordo comunque non utilitaria non mi ricordo quindi lei vide arrivare queste due autovetture con le tre persone a bordo no due persone e li precedeva il dottore Lauria beh due autovetture quindi la prima autovettura c'è il dottore Lauria la seconda ci sono questi due soggetti due persone allora qua diciamo che riesce fuori il nome del ex senatore come abbiamo detto precedentemente Lauria un altro nome io che fra l'altro mi era che era Corrao che anche cioè un po' particolare perché comunque Ludovico perché è un nome che ogni tanto mi è capitato anche in passato perché Ludovico Corrao cioè comunque non cioè a differenza di gran parte dei politici comunque che si è scoperto che hanno avuto a che fare comunque con la criminalità organizzata e cioè veniva invece dalla cioè dalla sinistra comunque cioè iniziò nella democrazia cristiana da giovane però poi dopo quando fu eletto senatore era nel partito era eletto col picci nell'area diciamo di sinistra indipendente che era diciamo una delle aree come dire di personaggi che facevano riferimento al partito comunista pur non essendo mai stati iscritti quindi anche lì insomma è un po' un intreccio un po' particolare infatti al di là dei nomi la fotografia che intanto volevo fare una precisazione prima ho sbagliato nelle attentate a Roma erano San Giorgio Alvelavro e San Giovanni Laterano ah sì mi sono sbagliato la fotografia è plastica cioè in quella stagione si mossero entità che avevano sempre dialogato fra loro mafia pezzi della politica pezzi dell'imprenditoria pezzi dei perché la gestione del potere in determinate zone era composta da queste entità quando queste entità sentono messe a rischio il proprio potere appunto come può essere in una fase storica che stravolge gli equilibri come è stata quella del 91 92 fino al 93 è chiaro che si muovono si muovono nell'unico modo che sanno fare sostanzialmente violenza violenza questo ma secondo me il processo il processo ondrangheta stragista da cui abbiamo estrapolato la testimonianza di Palmeri ricostruisce al di là delle condanne a Rocco Santo Filippone Giuseppe Graviano il contesto in cui la strategia stragista di Cosa Nostra endrangheta era univoca ma alza il velo più di ogni altra inchiesta fatta in passato su coloro diciamoci la verità mancano solo nomi e cognomi ma il gli apparati il i centri del potere sono ben definiti e sono sempre gli stessi sono gli stessi che troviamo negli anni 70 sono gli stessi in Italia sono gli stessi che troviamo in Sicilia dagli anni 80 fino agli anni 90 sono gli stessi c'è l'Iciogelli che in quella stagione particolare insieme ad altri insieme ai capi di Cosa Nostra Leoloco Bagarella e Totorino in primis e a pezzi delle versioni vecchi arnesi che evidentemente non era ancora in disuso come Stefano delle Chiaie si inizia a fondare leghe meridionaliste per creare i presupposti di un progetto che ha come obiettivo e scopo la separazione del meridione dal resto dell'Italia ma che poi fondamentalmente erano solo credo escamotage per ritrovare un assetto un riequilibrio politico che poi si è trovato non so quanto volontariamente o colpevolmente con l'avvento di Forza Italia come disegni d'Italia federalista divisa in tre zone tre zone di influenza le quali fu la spinta autonomista diciamo che è sempre stato un vecchio pallino della Cosa Nostra siciliana e di più o meno tutte le organizzazioni criminali al sud ma in quel cavallo del 90 91 92 fu molto forte perché crollava la prima repubblica crollavano i partiti DC e PSI che a cui Cosa Nostra e le altre organizzazioni criminali in Drangheta e le altre avevano affidato il proprio avevano delegato il proprio ruolo per per farsi per farsi rappresentare è chiaro che dicono mettiamoci noi a far politica direttamente scendiamo scendiamo noi in politica si creano queste leghe meridionaliste che hanno l'intento di vogliono separare la Sicilia cioè fare la Sicilia e il meridione uno stato a sé governato da loro da loro e si pensa che è un controaltare rispetto anche a quello che avveniva nel nord esatto e questo e questo progetto finanziato finanziato da Luca Bagarella da Sottorina da da Matteo Messina di denaro cade quando evidentemente si trovano nuovi referenti politici che di lì a poco avrebbero rigarantito quegli equilibri che erano persi e in dranghezza stragista Graviano parla ovviamente bisogna dire che Graviano non è non è non parlava come testimone né come collaboratore di giustizia quindi le sue frasi ovviamente vanno prese con venti pinze perché sono messaggi minatori sono frasi allusive sono che se sono vere andranno riscontrate i magistrati della procura di Firenze della procura antimafia di Firenze che indagano sui mandanti esterni delle stragi in continente stanno cercando di vagliare e di avere ma parla ed è lui sostanzialmente che parla di rapporti pregressi lui dice d'affari spatuzza dice altro con ambienti imprenditoriali del nord tradotto Silvio Berlusconi e il gruppo Fininvest sostanzialmente sono contento che si parla della morte scusate della morte dell'ex collaboratore Palmieri perché è un tassello di quello che è successo in tutta quella stagione e la lunga coda la viviamo ancora oggi perché ovviamente oggi a distanza di 30 anni è più difficile arrivare a una verità compiuta ma è notizia nelle ultime ore che viene scritto nero su bianco sulle motivazioni della sentenza sul depistaggio di Via D'Amelio dove erano imputati tre poliziotti e quindi dell'imbeccatura del falso spentito Vincenzo Scarantino sulla ricostruzione della strage di Via D'Amelio totalmente falsa fatta da Vincenzo Scarantino che mandò in carcere degli innocenti e venne ribaltata dall'entrata in scena di Spatuzza che fu uno degli organizzatori della strage di Via D'Amelio oggi viene scritto che il furto dell'agenda rossa di Paolo Borsellino venne messo in atto da uomini delle istituzioni da uomini dello Stato nero su bianco cioè queste vicende sono lontane 30 anni ma sono molto è stato dimostrato una cosa che si sapeva già cioè come dire sono sempre stati un po' i segreti di Puccinella però chiaramente ora viene scritto nero su bianco finalmente viene scritto nero su bianco come viene scritto nero su bianco in Andrangheta Stragista che la strategia unitaria di Cosa Nostra e dell'Andrangheta fu avvalorata coperta ispirata da altri soggetti e uno di questi soggetti in cui secondo me è importante dirlo nei giorni scorsi si è costituita l'associazione familiare vittime della falange armata una sigla che per anni si è celebrato un processo mi sembra all'inizio anni 2000 o comunque a fine anni 90 in cui venne imputato un unico un'unica persona che non è risultato completamente strane fatti per anni questa sigla ma sono dei mitomani ma sono dei buffoni addirittura venne presa come opera di così goliardi un'azione quasi goliardica la falange armata è sicuramente come emetro dal processo Andrangheta Stragista è una sigla che ha rivendicato tutti a partire dai delitti della uno bianca il primo omicidio che viene rivendicato è l'omicidio dell'educatore carcerario Umberto Mormile a Milano nel 91 e poi la falange armata rivendica tutte dalla strage di Capaci via D'Amelio agli attentati in continente tutti le stragi che vengono e fatti di sangue che vengono compiuti in Italia dal 91 fino al 94 per poi inabissarsi nella fattispecie che magari per qualche ascoltatore può essere oscuro per falange armata cosa si intende la falange armata è sostanzialmente avveniva negli anni a cavallo fra gli anni 80 e 90 soprattutto in Emilia ci sono stati molti fatti di sangue molti cruenti molto cruenti rapine e altre cose la strage del del campo nomadi alla periferia del pilastro compiuti dalla banda dell'ona bianca che era sostanzialmente una banda di tre fratelli due quali poliziotti e altri poliziotti che mettevano a segno queste rapine e venivano puntualmente rivendicate dalla falange armata veniva chiamato il centralino del lanza o della dn kronos o del quotidiano del corriere della sera o altri giornali e si diceva che un commando della falange armata ha ucciso rivendica la strage del pilastro e vennero uccisi tre carabinieri rivendica l'omicidio di Umberto Mormile un educatore carcerale del carcere di opera che sostanzialmente svela e si mette di traverso sui permessi da concedere a un mamma santissima come papalia mamma santissima dell'andrangheta viene ucciso perché scopre che papalia in sostanza parla anche con i servizi segreti e da lì in poi ci sono centinaia di telefonate di rivendicazione della falange armata che accompagnano appunto la strage di falcone la strage di Borsellino gli attentati in continente ed altro l'omicidio del maresciallo Guazzelli tantissimi fatti di sangue per anni non si è mai capito cosa fossero appunto c'era la diceria appunto che fossero dei burloni così che si divertivano dei mitomoni che si divertivano a rivendicare queste stragi in pochi ci credevano anche perché nei comunicati di rivendicazione erano molto precisi e si capiva che era un linguaggio da apparati che mandava messaggi e questi messaggi venivano capiti da chi doveva capire si è scoperto il processo andrangheta stragista ha molto approfondito già il processo trattativa stato mafia ma anche il processo andrangheta stragista ha approfondito da dove dove poteva collocarsi in che area si poteva collocare questa fantomatica falange armata si colloca ovviamente nelle apparati di sicurezza e molto probabilmente in una branca coperta della settima divisione del sismi che sostanzialmente era quella incaricata di gestire l'operazione Gladio all'interno della stay behind ma non ci dilunghiamo troppo perché sia praticamente tutta la storia della prima repubblica sì però ecco la falange armata è stato un gruppo di comunicazione terroristica accompagnato le stragi che poi hanno traghettato il paese infatti smette di parlare nel 94 perché ha trovato espressione ha trovato equilibrio cosa questo ovviamente sarebbe incauto dirlo diciamo sarebbe fare supposizioni che non sono riscontrate ai fatti però è un dato di fatto che le ultime rivendicazioni sono nel 94 riappare per la verità nel 2013 quando Rina viene intercettato nel carcere di Opera evidentemente Rina sapeva di essere intercettato e straparla sull'attentato di Borsellino in via D'Amelio parla di Matta Messina Nenaro parla della mancata perquisizione nel suo covo straparla e la falange armata quando ancora le intercettazioni non vengono rese pubbliche intercettazioni che vengono effettuate nell'ambito del processo manda un messaggio una lettera a Rina tappati la bocca ricordati che i tuoi sono ancora fuori per il resto ci pensiamo noi mamma mia è veramente assurdo rendersi conto di quanto appunto sia hai detto prima benissimo tu Alessandro non ci sono servizi segreti deviati è un po' come se fosse solo e semplicemente una questione di potere una questione dei regolamenti di conti cercare di far funzionare il potere in maniera congeniale in base al diverso apparato che si esprime attraverso la violenza o attraverso appunto la comunicazione terroristica è sicuramente molto molto peculiare non credo che in altri stati al mondo funzioni in una maniera così complessa come funziona da noi appunto la dinamica di potere tra uno stato che esiste uno stato parallelo e uno stato ancora sotto una cosa che potrebbe incuriosirmi però appunto fa più riferimento magari all'inizio alla prima parte della nostra repubblica può esserci in qualche caso una ingerenza magari di qualche stato estero nelle decisioni che vengono prese nei movimenti di potere del nostro paese dalla fine della prima repubblica in poi intendo perché nella prima repubblica è abbastanza palese che ci abbia messo lo zampino beh l'Italia fa parte di comunque di un di un'alleanza militare che è appunto la Nato sta in una precisa parte del mondo quindi non lo so se ovviamente credo di no non ho gli elementi per dirlo ovviamente se pensiamo che queste cose affiorano dopo 50 anni nel senso forse fra 50 anni lo sapremo nell'immediato è sempre difficile fare valutazioni del genere di sicuro sì cioè di sicuro in passato è stato così in queste ore insieme alle motivazioni del del processo sul depistaggio di vediamo le sono uscite anche le motivazioni della sulla strage di Bologna per quanto riguarda la condanna Paolo Bellini che è stato riconosciuto in primo grado che è stato riconosciuto come uno dopo più di 40 anni come uno degli esecutori uno degli esecutori materiali della strage insieme a Mambro Fioravanti Ciavardini e Cavallini anche lui condannato in primo grado nelle motivazioni della sentenza dove se fossero stati vivi sarebbero stati imputati e probabilmente condannati anche Licegelli Ortolani D'Amato ex capo dell'ufficio affari riservati e Tedeschi ex direttore senatore dell'MSI e direttore del 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 Borghese si dice che i finanziatori e i mandanti della strage di Bologna compiuta da Inar e da Bellini che era un ex avanguardia nazionale rispondevano e avevano forti e saldi legami con realtà estere quindi statunitensi ma cioè bene che sia scritto nel suo bianco è più storia che contemporaneità ma diciamo tanti aspetti poi rispetto a questo però anche lì diciamo purtroppo diciamo mai c'è stata diciamo una conferma però anche sul caso Moro sostanzialmente poi insomma si è fatto anche tanti ragionamenti cioè seguendo vari spezzoni sul fatto che appunto ci potessero essere delle dei rapporti diciamo tra tra le brigate rosse e e altre e altri diciamo gruppi provenienti dall'estero questo però questo però non è mai stato no esatto non è mai stato riscontrato e sono sempre stati secondo me però la cosa che è stata riscontrata è che comunque c'erano cioè che da parte del governo statunitense ecco per esempio c'era sempre stato diciamo un po' rispetto all'operazione che avrebbe voluto fare al Moro in quel contesto ci sarebbero delle preoccupazioni però chiaramente questo non vuol dire nulla esatto cioè sono due due cose diverse perché senza entrare nel dettaglio Liciogelli è acclamato è appurato che avesse più processi rapporti con quella parte dell'atlantismo più o transista conservatore più e più reazionario e più reazionario però ecco la figura di Palmeri ci dà un tassello in più per capire se non a livello processuale giudiziario perché ormai sono passati 30 anni rotti però per capire il contesto in cui si sviluppò quella stagione e la grande complessità che effettivamente abbiamo capito ancora di più quanto sia complesso quanto sia stato complesso tutto il processo che ci porterà che ci sta portando alle verità e quanto un tassello per quanto piccolo possa essere possa in realtà darci una lettura più dell'immagine d'insieme quasi come se fosse un puzzle a questo punto direi che siamo giunti alle conclusioni mi sento di ringraziare Alessandro Bartolini il nostro direttore grazie mille veramente grazie a voi terremo aggiornata comunque la situazione insomma c'è da dire l'ultimo notizia di poche ore fa Palmeri l'abitazione della moglie e dei figli di Palmeri sono state perquisite dal ROS dei carabinieri dalla DIA sul mandato della procura di Caltanissetta per in cerca di una sorta di testamento scritto di Palmeri però al momento comunica la procura di Caltanissetta che non è stato trovato niente una sorta di memoriale e non è stato trovato chissà se esiste verificheremo poi insomma in corso d'opera come si svolgeranno le indagini anche su questo li terremo aggiornati magari in un'onda pazza news qui da Gabriele Tommasi Marco Corsetti Alessandro Bartolini Jacopo Pacini alla regia vi ringraziamo per il vostro ascolto e vi auguriamo buona serata buona serata grazie a tutti e grazie a tutti il mondo è pazzo il mondo il mondo è pazzo il mondo il mondo è pazzo il mondo è pazzo già si sa il mondo è pazzo il mondo è pazzo ma in città c'è onda pazza Grazie.